Difficile, lungo, però adesso sono pronto. Sicuramente è difficile stare fuori, non riuscire a dare una mano alla squadra è anche brutto. Un giocatore sa che vuole stare sempre in campo e anche a contatto con i propri compagni, quindi sicuramente a livello anche di test è stato difficile. So che vengo da un infortunio e non ho fretta, però adesso che sto bene vorrei trovare spazio e cerco di fare il meglio durante l'allenamento per mettere in difficoltà l'allenatore. Io tutte le prime 15 partite, 14 partite le ho viste praticamente tutte da spettatore e ho sempre avuto un giudizio positivo per la squadra perché secondo me al di là di una o due sconfitte le altre partite non hanno mai demeritato. A livello di ragazzi e di gruppo sono stati sempre impeccabili e penso che sia visto anche in campo. Tutto possiamo controllare tranne il risultato finale. Come ho detto prima, io le partite all'inizio le ho viste molto allo stadio e da casa e un giudizio strettamente personale ma che poi penso venga condiviso da tutti quanti che il Bari non ha mai demeritato e secondo me a livello della prestazione c'è sempre stata. Poi come ti ho detto prima, l'ultima cosa che possiamo controllare purtroppo è il risultato. Alcune volte ci sono anche gli avversari e sono bravi e sicuramente quelli che abbiamo incontrato domenica lo erano. Quest'anno secondo me ci sono i presupposti ma come c'erano già gli anni scorsi, però per fare bene. Poi dove arriveremo lo vedremo a maggio. Noi cerchiamo di fare bene partita dopo partita perché è un campionato equilibrato dove perdi una partita sei quinto, ne vinci una sei primo. L'importante è trovare la continuità e l'equilibrio anche all'interno del scuolatoio perché poi la gente fuori ti porta in alto e ti spinge a fare bene. Però magari poi perdi una partita e devi continuare sulla stessa onda. Non bisogna né fare troppi voli né abbatterci per una sconfitta. L'importante è avere continuità perché in un campionato così un punto ti può fare la differenza. Quindi è scontato dirlo ma perdere meno partite possibili sarebbe la cosa ideale. Sicuramente il mister farà strada perché sa di calcio e noi abbiamo un'identità. E questo è grazie a lui perché l'allenatore fa tanto e sicuramente lui ci ha dato un'identità. Ha dimostrato di sapersi adattare, di rinunciare a giocatori. Nel bene e nel male ha fatto giocare sempre tutti e tutti hanno fatto bene. E questo è merito anche dell'allenatore e soprattutto anche perché è un gruppo genuino. Sicuramente il mister farà strada. Io auguro di farla insieme a noi. L'ultime tre partite penso che la squadra abbia cambiato anche poco. Penso anche sia giusto trovare della continuità. Alla fine se vinci è giusto anche tenere i ragazzi. Il mister ci ha sempre detto che non c'è un modulo. Alla fine in base ai giocatori che ha e le caratteristiche che hanno fanno loro il modulo. Poi, ti ripeto, magari nell'ultimo periodo siamo stati anche un po' sfortunati con gli infortuni. Quindi quello incide anche nella formazione, voglio dire. Se sei quei giocatori non puoi inventarti chissà che. Però comunque ovviamente si vince e si perde tutti insieme. Io sinceramente vorrei giocare ogni partita, come tutti quanti. Ma sono contento solamente se il Bari vince. Sono stato dieci partite in tribuna e stavo con la sciarpa in mano. Quindi sarei un'ipocrita a dirti che non vorrei giocare, ma come lo siamo tutti quanti. Poi se troverò spazio sarò contentissimo. Però noi non abbiamo il diritto di giocare. Abbiamo voglia di giocare, ma non è che lo pretendiamo. Secondo me è una squadra molto forte. Anche se sbagliano 19 punti o 23, non mi ricordo. È una squadra che è partita bene, poi ha avuto dei problemi come tutti in questo campionato. Ma se analizzo gli undici che hanno giocato anche l'ultima partita a Salerno, sono tutti giocatori forti. È normale che quando si perde magari la mente ti affossa un pochino. È più difficile andare forte quando sei sotto i 2-0. Nelle ultime gare secondo me non abbiamo sofferto così tanto il ritmo, perché poi per la maggior parte delle partite abbiamo sempre avuto noi la palla. Ti ripeto, quando perdi, quando sei sotto, non è tanto la stanchezza fisica ma quella mentale. Fare bene queste partite per noi è fondamentale, anche perché poi arriviamo alla ripresa dove avremo tutti scontri diretti in casa. Dobbiamo sfruttare le occasioni che questo campionato ci sta dando e ultimamente non le abbiamo sfruttate appieno per demeriti nostri o per meriti per gli avversari come Domenica.